In questo programma ci interessiamo spesso di realtà industriali, di realtà interna imprenditoriali emiliano-romagnole del nostro territorio, ed è quello che facciamo anche in questa puntata, vedete il titolo che abbiamo scelto, Orva, realtà in crescita, Orva è un'azienda romagnola e abbiamo proprio qui con noi, lo ringraziamo per aver accettato il nostro invito, il titolare di Orva, Luigi Bravi. Prima di tutto, che cosa fa Orva, di che cosa vi occupate, cosa producete? Orva produce pane e piedine, quindi tutto quello che sono sostitutivi morbidi del pane. Ah, quindi un'attività proprio legata a cose tradizionali, se vogliamo, come appunto tutti noi, pane e piedina, tutti i giorni. La piedina è la tipicità della Romagna, quindi conosciuta ormai in Italia, in tutte le regioni, ma anche ben conosciuta nel mondo. Ma parliamo un po' di Orva, questa azienda. Allora, lo stabilimento base, l'azienda nasce a Bagnacavallo, però avete altri siti. Sì, noi abbiamo tre siti produttivi, due a Bagnacavallo e uno a Misano Adriatico, dove facciamo piedina nettamente esclusiva con farina di grano romagnolo e sale di cervia. A Bagnacavallo invece facciamo tutti gli altri prodotti che sono panni morbidi, che oggi sono quelli che tendenzialmente hanno un grosso sviluppo nel mercato. Certo, certo. Ecco, la gente da casa, quelli che ci stanno ascoltando, non molti sanno, o forse anche pochi, la dimensione di Orva. Voi nel mercato italiano dove vi posizionate? Noi diciamo che siamo un po', nel mondo delle piedine siamo fra i leader. Produciamo qualcosa come 350.000 piedine al giorno. Al giorno? Sì, che se le mettessimo uno sopra l'altro faremmo l'altezza tutti i giorni di tre torri Eiffel. Immagini lei che una quantità enorme che esce dai nostri forni. E a livello di pane, pane morbido, siamo paritari al leader come capacità produttiva. Quindi siete il numero uno e mezzo in Italia, ecco, nel vostro settore. Sì, diciamo di sì. Quindi Bagnacavallo, da Bagnacavallo, numero uno e mezzo in Italia, contro i grandi colossi. Mi permetto di dire che invece a livello tecnologico siamo i numeri uno, perché l'Orva ha tecnologie recentissime. Invece aziende, innanzitamente più grandi di noi, eccetera, hanno comunque tecnologie a volte anche un po' datate. Certo, certo. Dopo proprio torneremo sulla tecnologia, perché so che interessa anche a certi personaggi con gli occhi un po' amandola. Parliamo adesso invece delle dimensioni della sua azienda. Avete un'azienda nuova, mi risulta, dal punto di vista proprio strutturale. Sì, l'Orva è cresciuta negli anni, anche se negli ultimi tre anni è stata un pochino ferma, perché per poter sviluppare un nuovo stabilimento e installare le nuove attrezzature ci abbiamo messo un po' di tempo. A volte è dovuto anche alla burocrazia, noi siamo stati un pochino più rapidi dopo. E quindi ci siamo sviluppati, diciamo, da quest'anno e ci svilupperemo molto in futuro. Quest'anno siamo cresciuti di un circa 25%, l'anno prossimo cresceremo di un 50%. Questo ci ha portato ad assumere 50-60 dipendenti. In tutto adesso quanti siete? Noi siamo circa 225-230 persone. Ah però, un numero 9. Sì, incomincia ad essere per il comprensorio una realtà abbastanza importante. Certo, certo. Anche perché il settore alimentare è un settore tranquillo, quindi diciamo che la gente poi alla fine mangia più o meno sempre le stesse cose. Lei dice tranquillo, cioè c'è concorrenza ovviamente. Sì, no, nella mia esperienza ho vissuto anche nel mondo della moda e era difficile perché se lei faceva il campionario giusto vedeva. Se sbagliava il colore, non vedeva più. Invece il pane, diciamo, la piedina. Il pane rimane sempre pane, la piedina rimane sempre piedina. Anche se poi cambiano un attimo, si lavora molto sul packaging, si lavora sui formati, sulle grammature, poi il prodotto di base rimane quello. E la crisi l'avete sentita? La crisi noi l'abbiamo sentita in senso positivo. Positivo, addirittura. Sì, perché il ceto diciamo medio, medio basso, con la crisi ha cambiato anche un po' il suo tipo di approvisionare il cibo e è andato verso prodotti che hanno un costo più accessibile. Il pane, come il latte, le uova, la farina, sono alimenti di base. Meno carne, meno pesce, meno carne rossa, meno pesce, più carne bianca, più tonno, più insalata e più pane. E più pane. Quindi per voi, anche se è brutto dirlo, la crisi è andata bene. Diciamo che la crisi ci ha portato aumento di volume. Comunque ci ha portato minor margine, i margini sono diminuiti perché la concorrenza, il sistema, però con i volumi si riesce a fare comunque la marginalità che uno ha bisogno. Lei prima che andassimo in trasmissione mi diceva c'è differenza tra l'imprenditore e l'artigiano. Cioè l'imprenditorialità richiede certe doti, certe conoscenze. Allora, io dico sempre che uno diventa ingegnere se fa l'università, altrimenti rimane un buon meccanico. La differenza tra un ingegnere e un meccanico, l'ingegnere è capace di fare un calcolo strutturale, il meccanico no. No, il meccanico costruisce magari quello. Poi magari nella messa a punto sarà anche più bravo. Però questa è la differenza. Quindi imprenditori si diventa. Io ho avuto la fortuna, quando ero giovane, di lavorare in un'azienda primaria dove mi hanno insegnato a fare impresa. Che si faccia scarpe, che si faccia pane, che si faccia bicicletta. Ci sono delle regole basi. Ci sono le regole basi che vanno a rispettarsi e questo mi è servito molto. Chi fa impresa le faccio un altro paragone. A me piace fare paragone. Uno quando gira una strada normale può andare a destra, a sinistra, fermarsi, fare intramarcia. Invece quando entri in autostrada prende il biglietto, va in un consenso, poi a seconda della corsia deve andare anche a una certa velocità e per uscire deve anche pagare. L'industria è l'autostrada. È l'autostrada. Con regole differenti dal resto della produzione. Perfetto. Quindi questa è la differenza fra l'artigianalità e l'industria. Lei mi ha detto un'altra cosa che mi ha colpito. Quando doveva mettere a punto il progetto per il suo nuovo stabilimento, usiamo questo termine, lei è andato a vedere altre realtà. Ad esempio la Ferrari. Ora io dico, perché la Ferrari col pane? Cosa c'è? Io sono andato a vedere le realtà per vedere un attimo come deve essere un'azienda innovativa a livello di filosofia aziendale. Quindi qual è la filosofia dell'azienda? Indipendentemente da quello che si produce insomma. Certo, certo. Perché l'operatore deve lavorare bene. Mi è stato a vedere un attimo quello che sono gli stabilimenti all'avanguardia. Dalla Ferrari ad altri stabilimenti ho cercato di prendere il meglio e di metterlo insieme. Noi abbiamo fatto un stabilimento che non è il solo stabilimento, il capannone messo là. Abbiamo fatto un'architettura industriale, bella da vedere anche. All'interno abbiamo lavorato con sistemi di tutto tetto in legno, quindi confortevole, spazi ampi, luminosi in modo che l'operatore si senta a suo agio. Un operatore si senta a suo agio, lavora molto meglio e rende molto di più. Quindi questo è stato un po' quello che mi hanno cercato di portare a casa andando a visitare, a vedere e parlando con imprenditori storici. È stata un'esperienza molto bella e molto costruttiva. Un'altra cosa che le voglio chiedere, per lei mi ha accennato la manualità, di cui tanto si parla, o il Made in Italy, la manualità italiana, ma nell'industria serve la manualità? No, nell'industria non serve la manualità, nell'industria serve la tecnologia. La tecnologia adeguata va a supporto della manualità e ti permette di essere competitivo. La manualità va bene per fare certi prodotti, come dicevamo prima, artistici, gioielli o altre cose. Ma nel settore, nel mondo, diciamo, industriale dell'alimentazione, quindi nella pasta, nel pane o quant'altro, ci vuole tecnologia, quindi ci vuole attrezzatura adeguata. E personale che segua la macchina, è la macchina che lavora, non è la persona che lavora. La persona deve valutare, controllare che il processo... Intervenire se le cose non vanno bene. Controllare il processo produttivo che venga rispettato, che il prodotto esca con la qualità che il cliente vuole e con il quale mi ha stabilito. Certo. Ecco, torniamo a quello che lei diceva prima dello stabilimento ad alta tecnologia. Sono venuti i giapponesi a vedere. I giapponesi sono conspirati al massimo della tecnologia, però per il pane vengono da lei a vedere cosa fa. Sono venuti in Italia perché hanno scelto tre aziende in Europa ad andare a visitare... Aziende, scusi, che fattura 4 miliardi di euro all'anno. Sì, c'è un'azienda che fattura oltre 4 miliardi, quindi... E sono venuti a bagna cavallo a vedere come vanno le cose. Sì, perché in Italia noi siamo fra le aziende a livello tecnologico, nel mondo della panificazione, anzi, siamo la più avanzata. Abbiamo tecnologie più moderne, recenti, e grazie ai nostri fornitori sono venuti a visitare il nostro sito per valutare la tecnologia che noi abbiamo applicato. E direi che sono rimasti... E cosa hanno detto quando se ne sono andati? Ma intanto, poche parole, tante foto. Coppiano, eh? Attenzione. Sì, no, vabbè, ma tanto il Giappone è l'assimur che copia, di là del mondo. Noi facciamo prodotti che... Il nostro lavoro è basato soprattutto sul servizio. Quindi noi siamo bravissimi a fare prodotti in tempo molto veloce. Lei pensi che noi quello che produciamo oggi va via domani, quindi... Dal Giappone sarebbe impossibile. Le tre torre Eiffel partono... Partono tutti i giorni, partono tutti i giorni, sì. Partono tutti i giorni, accidenti. Ed oggi il mercato richiede servizio. Un prodotto, se valutiamo un prodotto, la qualità e il prezzo del prodotto di base lo fa il mercato. Se un prodotto deve costare 100, lei potrà essere 95, 105. A 50 chiude, a 150 non vende. Esatto. Quindi qual è la differenza? Il servizio. Servizio vuol dire dare il cliente al momento giusto quello che ha bisogno. Certo. Quindi avere capacità produttiva, soddisfare le sue esigenze. Lei pensi che in promozione si vende in Italia circa il 38% di prodotti che non sono venduti in promozione. In promozione, sì. Per cui quando c'è la promozione, che di solito dura un paio di settimane, i volumi diventano 3, 4, 5 volte. E voi dovete essere in grado di aumentare di 4, 5 volte le consegne. Noi dobbiamo essere in grado di poter produrre quella quantità richiesta nel tempo richiesto. Quindi avere questa enorme capacità produttiva. Certo, certo. Quindi lei è abituato ad andare a pensare in velocità. E con la burocrazia italiana come la mettiamo? Noi diciamo che è una velocità, viaggiamo su due binari diversi. Noi abbiamo una velocità, ma tutte le imprese italiane hanno una certa velocità, perché il mondo si evolve in questo senso. La burocrazia invece viaggia in un binario diverso, con tempi più lunghi, nessuno si foggia, si fa domani. Noi lavoriamo sui volumi, noi dobbiamo produrre dei volumi, dei chili o dei pezzi. La burocrazia produce dalla carta, è un po' diverso. Però la carta serve per avere i permessi. Certo, la carta serve a livello legislativo per avere i permessi, se ne riescono a quanto. Però bisognerebbe, secondo me, che questi signori entrassero un po' più nel mondo reale di chi fa imprese e quindi avvicinarsi un po' a quelli che sono oggi i nostri tempi e le nostre velocità. Non è una critica, è un'osservazione ed è un'esigenza che abbiamo. Sono due mondi che ragionano con tempi e modalità differenti, però devono fornire lo stesso. Però, vede, il mondo industriale dipende dal mondo burocratico. Esatto. Purtroppo noi siamo sotto, siamo alle loro dipendenze. Quindi è quello che chiedo, mando così, un messaggio. Giusto, ma è giusto. Non è l'unico, sa. Un messaggio in cui si richiede un'attenzione e una velocità soprattutto maggiore. Esatto. Risposte in tempi più rapidi. Senta, lei da come ne parla mi sembra un soggetto molto deciso, molto… Lei prima aveva detto una frase riguardo a questo argomento, cioè i debiti sono i miei, ma la società, la mia azienda è di tutti, almeno del territorio in cui è. Ma diciamo che un personaggio molto importante nel mondo dell'alimentare in Italia una volta mi disse, guarda che i debiti sono come i dolori, che ce li ha si li tiene. E anche lei si tiene i suoi. Allora, io dico, l'azienda è un patrimonio collettivo, i debiti sono dell'imprenditore, chiaro, come sono i margini, i guadagni. Poi l'imprenditore deve essere più o meno bravo a reinvestire i guadagni in azienda e quindi prestare sempre al passo. Ma l'azienda comunque è meno collettivo. L'azienda produce ricchezza, se produce ricchezza, la ricchezza viene distribuita… Si dice 230 dipendenti, sono grossomodo mille persone, anche di più, come solo i familiari, che dipendono dallo stipendio che arriva grazie all'orda. Esatto, poi attorno ai dipendenti c'è un indotto, un indotto che più o meno è paritario ai dipendenti. Ci cominciamo a considerare i ristoranti, gli alberghi, i trasporti, i servizi, tutto quello che gira attorno, l'indotto è importante. Quindi un'azienda che produce, che assume, che crea ricchezza, poi viene distribuita nel territorio. Nel territorio. E anche fuori del territorio. E gli enti locali, parlo regione, comune, ad esempio, come sono il rapporto con loro? Il rapporto è così. Così, anche lì c'è di mezzo scommetto alla burocrazia. Sì, anche un po' così. Diciamo che siamo carenti con i servizi. Ad esempio, una cosa che io devo rimproverare un attimo è la carenza di servizi. Manca la viabilità. Eh già. La viabilità è una cosa importantissima. Manca, nella nostra industriale abbiamo fatto l'ampiamento, il nuovo stabilimento. Quando siamo andati è tutto bene, tutto bene. Quando siamo andati a far partire i forni non c'è gas a sufficienza. E questo è un problema molto grave. È un anno che ne parliamo, dopo un anno siamo ancora al punto di partenza. Venerdì dovrei avere un incontro con gli enti proposti e con gli amministratori per vedere di sbloccare questa questione. Nel frattempo abbiamo dovuto prendere dei carri cisterna col gas per poter partire. Però questo è un costo superiore. Quindi ci dobbiamo colare costi per, fra virgolette, non dico inefficienza, ma ritardi. Problemi altrui. Problemi altrui, ritardi altrui. Certo, ecco. Questo è un argomento interessante perché molti non si rendono conto che non basta dire spendo 30 milioni di euro nel fanno lo stabilimento nuovo perché poi ci sono tante altre problematiche che mettono in crisi quei 30 milioni. Sì, certo, certo. Anche perché poi i 30 milioni che ce li ha dati li vuole dietro. Ah già. C'eravamo dimenticati. Vedi, al mondo ci sono due categorie di milionari o miliardari, quando ce l'ho da dire. C'è chi miliardi ce li ha in banca, chi invece in banca li deve portare. Li deve portare. Io sono... Portatore. Portatore. Lei è un portatore, va bene. Portatore. Comunque, assieme ai miei collaboratori, siamo tranquilli che li porteremo tutti nel tempo dovuto. Li porteremo con gli dovuti interessi. Sì, sì, beh. Ma guardi, oggi fortunatamente il denaro costa pochissimo. È vero. Quindi questo ha agevolato molto l'impresa a fare investimenti. Poi c'è chi ha investito nell'impresa, chi invece ha investito fuori dall'impresa in altre cose. Ci mancherebbe. Io ho delle idee che imprese come l'Orva, diciamo medie, debbano investire nel suo settore. Certo. A me è stato proposto di investire in altri settori, ma ho sempre rinunciato. Quelle poche volte che sono uscito dal mio campo ci ho rimesso. E quindi meglio stare, investire dove uno è pratico e uno parla. Da come lei ne parla, io intuisco che lei ama la sua azienda. Certo. Ma io amo la mia azienda, amo i miei collaboratori e i miei collaboratori amano l'azienda. Da noi, quando si guarda l'orologio, si dice, ma sono già le sei? È volante il tempo. Ecco, è diverso da dire che non si fanno mai le sei. Cioè, questo dimostra l'entusiasmo che c'è nella nostra azienda. Noi abbiamo collaboratori bravi, l'età media dell'azienda è sui 35 anni. Quindi giovani. Se mi tolgo io, già un pochettino si abbassa. L'80% è il personale femminile. Il personale femminile è il più penalizzato nella ricerca di un posto di lavoro. E' vero. Soprattutto quando una donna ha 35-40 anni, dove va? Un uomo, se voglia di lavorare, un posto lo trova sempre. E' una donna sempre più penalizzata. Quindi noi, nel nostro settore, siamo riusciti a, fra virgolette, non dico una parola, riciclare quello che ha perso il settore calzaturiero. Ah, è vero. Bagna Cavallo Fusignano era un polo calzaturiero. Avete assunto donne che prima lavoravano. Negli anni 70-80, importante. Poi dopo non hanno capito che bisognava andare su prodotti con un contenuto tecnologico elevato e quindi sono stati ammazzati dai cinesi, eccetera. Dai vietnamiti, da tutti quelli che fanno le scarpe, certo. Quindi noi abbiamo, diciamo così, assunto parte di queste persone. Certo. Nel nostro organico il 10% sono giovani laureati, quindi anche dei ragazzi molto bravi, che hanno volontà. Da qui la tecnologia che viene colata. Da qui la tecnologia. Oggi bisogna prendere, oggi il mondo gira attorno alla tecnologia, attorno all'informatica. Ovvio. Se uno è capace di lavorare bene con l'informatica, gestire bene, viaggiare, navigare bene in internet, uno ha il mondo davanti. Ovvio. Quando c'è un problema noi andiamo a vedere su internet le soluzioni e le troviamo. Certo, certo. Io sono un patito di queste cose. Immagino. E ho sviluppato l'interno, diciamo io ho sviluppato l'idea, poi i miei collaboratori ho sviluppato la pratica. Tutto basato sull'informatica. Lei pensa che abbiamo un sistema informatico che in tempo reale ci dà tutto. Il fatturato, i margini, la redditività dell'azienda, dei prodotti per clienti. Avete tutto sotto controllo. Tutto sotto controllo. In tempo reale. E questo serve molto anche per fare simulazioni. Se succede questo, come devo fare? Se succede questo, come devo fare? Quindi, sì, sì, bene, bene, bene. Questo è molto importante. A proposito di tecnologia, lei prima faceva un discorso che chiunque studia economia sa, c'è il prodotto che nasce, poi c'è il periodo in cui è maturo, poi c'è il periodo in cui è obsoleto e scende. Ecco. E questo succede ovviamente anche per i vostri prodotti. Ma certo, nel nostro settore... Lei mi diceva, lo spaghetto è sempre lo spaghetto. Sì, ma il mondo alimentare ha dei tempi lunghi, uno spaghetto è uno spaghetto cent'anni fa, sarà uno spaghetto fra cent'anni, poi cambierà un po' il formato, le grammature. Anche la piadina, la piadina cent'anni fa sarà così fra cent'anni. Il mondo alimentare ha diverse fasi, una è la fase di lancio, dove si lanciano i prodotti, lei pensi che su dieci prodotti lanciati a buon fine ne va uno, ne va. Poi c'è la fase di sviluppo, che dura mediamente, il lancio dura circa un anno, lo sviluppo dura dai tre ai cinque anni, la maturità dura da trenta a cent'anni, secondo il tipo di prodotto. Poi c'è il declino, nel declino c'è la rivitalizzazione. Tante volte basta in un prodotto cambiare il packaging o cambiare il formato... O il nome. O il nome che c'è la rivitalizzazione. Una cosa di marketing molto importante. Sì, sono una cosa di marketing importante. Però bisogna anche appunto fare prodotti innovative. Le butto là. Biologico, integrale, fibre, lei che cosa mi risponde? Allora, guardi, l'Orva ha i prodotti di base, che è lo zoccolo duro, che però se dovessimo campare con quelli io non sarei qui oggi. Certo, certo. Quindi però sono quelli che c'erano per fare volume, per far girare il tutto. Poi c'è l'innovazione. Oggi noi abbiamo cambiato anche il modo di vivere. Dedichiamo molto più tempo, più spazio al tempo libero. Lei pensi che negli anni 60 per preparare un pasto... Un'ora e mezzo, due. ...la sdora romagnola ci metteva un paio d'ore, fra fare il soffritto, fare la pasta in casa, eccetera. E a tavola ci stava un'oretta, circa. Un'oretta, certo. Oggi... Adesso in 10 minuti e un quarto d'ora si prepara il pasto e in 10 minuti e un quarto d'ora si mangia. Quindi bisogna fare prodotti che siano... che abbiano... che diano un servizio. Di più, la piadina, io lo considero, soprattutto quello sottile, un contenitore di farciture. Ecco, lei, a proposito di piadina, scusi se ne interrompo, lei prima ha fatto un discorso interessante. Dei due tipi di piadine che abbiamo litigato in Romagna per 50 anni, quella spessa, Cesenate, Forlivesi e Ravennate, e quella più larga, ma più sottile, Riminese. Sì, sì. Ecco, lei da industriale mi fa notare due aspetti, che quell'altra la si tagliava spicchi, perché se no in gombra non si piega. Diciamo che siamo stati bravi a litigare per tanti anni, quindi abbiamo preso del tempo, però finalmente mi ha raggiunto l'accordo. Da circa tre anni abbiamo ottenuto anche l'IGP, per cui salvaguardia... La produzione locale. ...la produzione locale, quindi salvaguardia il prodotto, il territorio, eccetera. La piadina, ci sono due tipi di piadina, una spessa e una sottile. Quella spessa è più tipica, diciamo, della bassa Romagna, quindi Ravenna, Forlì, Cesele, eccetera. Quella più sottile invece è Riminese, che è quella che si presta maggiormente a fare farciture. Perché si arrotola. Si arrotola. E quindi oggi chi ha un po' freddo, io vedo anche le mie figlie, le mie nipotine, vengono a casa, una piadina, vanno nel frigo, guardate quello che c'è, fanno il loro palito. E poi via fuori a giocare o fare altre attività. Quindi queste sono tendenze... Mentre l'altra la si mette ancora con il prosciutto. La si mette ancora con il prosciutto, si riscalda piano piano, e si utilizza anche come pane. E proprio quella spessa veniva utilizzata dalla sdora tagliata a spicchi e messa nella bisaccia del marito contadino che andava nei campi, e poi quando era ora di mangiare, tirava fuori il spicchio di piadina con un po' di prosciutto o quello che aveva e mangiare. E quindi di qui la piadina... Quindi voi adesso siete molto indirizzati verso, non so, produzione di panni integrali, con più fibre... Sì, allora la tendenza, diciamo così, la tendenza degli ultimi 10-15 anni è stata quella di tutti quanti di guardare un po' alla nostra salute. Quindi benessere... Questo ha portato a sviluppare molto prodotti innovativi sotto l'aspetto salutistico e benessere. È cresciuto molto il biologico. Noi siamo fra i maggiori produttori di pane biologico. E abbiamo un bel mercato anche all'estero, dove all'estero il biologico è nettamente molto più sentito. Ci sono dei paesi come la Svezia, la Danimarca, dove il biologico... Che mangiano solo biologico. ...ma il biologico va dal 50-60%. In Italia siamo, mi sembra, attorno al 10%. Quindi se mangi un sviluppo... È un settore che adatti Nielsen, cresce a doppia cifra tutti gli anni. Anche perché oggi chi fa biologico ha capito che il biologico deve avere un rapporto di prezzo rispetto all'azionale, non troppo... Un gap non troppo elevato. Infatti molti mi dicevano che il biologico costa... No, costava. Oggi tutti quanti hanno capito che è inutile dare quell'attacco in più che poi dopo non si vende. E quindi ci siamo tutti quanti un po' ridimensionati e stiamo in quel gap accettabile al consumatore. Gli altri prodotti che si sono sviluppati sono quelli a base di fibre, semi, cereali, integrale. L'integrale è diventato il secondo item. Quindi sta andando benissimo anche grazie a spot pubblicitari che si vedono in tv. Quindi la massa segue poi la pasta integrale, segue il pane integrale, segue il biscotto integrale. Però l'integrale è fonte di fibre quindi fa bene anche all'organismo, ci aiuta a essere un po' più sazi e mangiando anche meno. Mangiando anche meno. Quindi avete non solo alta tecnologia ma anche innovazione nei vostri prodotti che sembrano classici ma classici non sono. Senta, lei ha parlato adesso, ha fatto proprio un accenno Svezia e altre nazioni. Mi parli dell'Orva all'estero? Soprattutto dove andrete cosa farete? So di un mega contratto. Allora, noi attualmente esportiamo un 5-6% all'estero nei paesi, diciamo così, limitrofi Svizzera, Croazia, Ungria, Spagna, eccetera. Svezia, Svezia esportiamo delle piadine, Svezia. Noi facciamo anche prodotti... Vengono qui, la sentono sulla nostra riviera e poi... Facciamo anche loro, molto attenti al gluten free, quindi gluten free è uno di quei prodotti che sono rivolti in ciliaci ma non solo in ciliaci. Adesso abbiamo avuto la possibilità di ottenere una grossa commessa che ci tranquillizza per il futuro. Vedo che sorride, eh? E ci porterà a sviluppare circa il mercato estero attorno al 30%. Quindi comincia ad essere una bella commessa tranquilla. Possiamo sapere in che nazione, giusto? Sì, in Francia. In Francia. Ah, i cugini francesi. Cugini francesi, sì. Cugini francesi. I francesi in Francia e poi dopo andremo anche in Spagna. Quindi, insomma, sono nazioni che ci stanno... Sono soddisfazioni. Sono importanti. Sono importanti per lei, vedo che sorride, quindi giustamente... Il mercato invece del biologico si svilupperà maggiormente nei paesi nordici. Nei paesi nordici. Sì, è proprio perché, come diceva, là ci sono più sensibili. Sono più sensibili, sì. Sono più sensibili a questo aspetto. Tant'è vero che adesso, in febbraio, siamo presenti alle fiere del biologico di Nuremberg, che è una delle più importanti che si fanno al mondo e fiera molto, molto importante, dove, insomma, ci sono tantissimi produttori e il mercato biologico si sente proprio come batte il polso del biologico. Sì, veramente. Rappresentate il Made in Italy ad alti livelli. Senta, stiamo avviandoci verso la fase finale di questa interessante chiacchierata. E il futuro dell'Orva? Tra vent'anni dove sarà l'Orva? Oddio, io spero di esserci ancora perché non ho fretta, eh. Ma diciamo che il futuro dell'Orva, ma penso che se si porta avanti la filosofia che mi hanno insegnato e quello che cerco di insegnare a tutti i miei collaboratori, soprattutto alle mie figlie, che saranno le future... Ecco, è un'impresa familiare. Sì, è un'impresa familiare. Poi le mie figlie, assieme ai loro mariti, lavorano in azienda e sono dipendenti dell'azienda, non sono titolari. C'è la diversità. Anch'io mi ritengo un dipendente dell'azienda. Poi a fine anno pretendo che ci siano determinati risultati. però all'interno dell'azienda sono uno che l'Orva paga perché dia dei risultati. Quindi anche lei è impegnato a dar risultati. Certo, certo. Ci mancherebbe. E io penso che fra vent'anni con quello che stiamo facendo l'Orva sia un'azienda importante. Certo. C'è un'azienda importante. E il settore alimentare italiano tra vent'anni, che prospettive vede per questo settore? Ottime, prospettive ottime. Lei pensi che ci sono tre cose al mondo che sono apprezzate? è il Made in Italy. L'automobili, la moda e l'alimentare. E l'alimentare. L'alimentare italiano è il migliore. Guardiamo gli sviluppi di certi Italy e altri, Barilla e Compagnia Bella all'estero, insomma, sviluppi notevoli. Certo. Il Made in Italy è molto, molto pressato. Molto pressato. E quindi hanno bisogno adeguarsi naturalmente quelle che sono le esigenze dei paesi in cui si va a sviluppare il business. Quindi adeguare prodotti, formati, tempi di realizzo e consegne, eccetera. Però il Made in Italy secondo me ha un'ottima prospettiva di sviluppo notevole all'estero. Bene. Sotto tutti gli aspetti. Sotto tutti gli aspetti. Ed è anche l'augurio che le faccio di andare avanti sempre con questi aumenti in doppia cifra che vedo la fanno giustamente sorridere. Quindi complimenti a lei, complimenti a tutti i suoi collaboratori, grazie per le cose interessanti che ci ha detto e grazie anche a tutti voi che ci avete seguito. Grazie a voi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.